Buonasera, buonasera, seconda tappa di questa stagione, se proviamo a immaginarla come un edificio che si costruisce man mano, la stagione 17-18 poggia su fondamenta molto solide, su due pilastri della storia dell'opera. Il primo è stato Cristiano Isotta di Wagner che ha inaugurato con la direzione del maestro Rosè dalla stagione e che è appunto, è stato già detto, opera fondamentale, spartiacque e ha cambiato il mondo della musica. Stasera un'altra di queste opere altrettanto importanti dal punto di vista storico-musicale come il Falstaff che è l'ultima opera di Verdi e in cui un Verdi ottoagenario ha dato prova di grande giovanilità, se così possiamo dire, rinnovandosi ancora dal punto di vista del linguaggio musicale e della drammaturgia di questo titolo. Diversi sono gli elementi interessanti in questa produzione che abbiamo in scena, in primis direi la regia di Daniele Abbado che ha creato questo spettacolo nel 2008 per il Teatro Lirico di Cagliari e che adesso arriva a Torino con alcune innovazioni. Dal punto di vista scenico una novità sarà anche un nuovo sipario che ha realizzato per questa occasione Alcantara che è partner della produzione. La scena è costituita da una piattaforma che dice Abbado nell'intervista che troverete sul programma di sala permette di tutto, botole, scale, elevatori, oggetti che arrivano volando, mobili sospesi, persino Falstaff viene sospeso. Da punto di vista musicale il teatro è grato al maestro Donato Renzetti che ha accettato di sostituire Daniel Harding. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare al debutto di Harding al Teatro Regio perché è lui costretto da un infortunio a non poter dirigere qui. Il suo debutto è rimandato al futuro, non sarà a breve termine ma ci ha garantito che verrà. Peraltro a proposito del maestro Renzetti mi fa piacere ricordare che lunedì prossimo sarà sul podio della Filarmonica per un interessantissimo concerto tutto dedicato a musiche americane. A sua disposizione in scena c'è veramente una doppia distribuzione di interpreti di assoluto interesse. Cito solo i due protagonisti, Carlo Salvares e Carlo Lepore, che conoscete benissimo, sono nostri graditissimi frequentatori in veste di cantanti. Per introdurvi, o meglio, per parlare di quest'opera che certamente è tra le più famose di Verdi è venuto a trovarci di nuovo Alberto Bosco. Alberto Bosco è un torinese di formazione, è diplomato in composizione, in pianoforte, in storia della musica all'università, ma è un cervello in fuga, anzi è già fuggito da qualche anno in quel di Madrid dove insegna nelle serie di staccate dell'università di St. Louis e di Stanford. collabora col teatro, come probabilmente sapete se siete lettori dei nostri volumi di sala e ogni tanto abbiamo l'opportunità anche di ascoltarlo in vivo e lo ringrazio. Nell'intervista che ho già citato fatta da Susanna Franchi e Daniele Abbado, Daniele Abbado conclude dicendo Non sono mica tante le opere che ti mettono di buon umore. Sono convinto che anche la conferenza di Alberto Bosco farà altrettanto. Grazie. Grazie a Simone, grazie al teatro, perché tutte le volte che vengo qui adesso sono il cervello in fuga. Volevo far notare che già prima il mio cervello fuggiva allegramente senza dovermi muovere fisicamente, ma è un'altra cosa che ho imparato stando all'estero, che alla fine tutti gli organi, alla fine il cervello è proprio quello che in realtà non fugge, perché rimane poi a meditare, a riflettere su quei problemi che uno ha ereditato, su quelle forme di riflessione che uno ha imparato nella propria formazione, nella propria città poi di fatto. E quindi sono in questa situazione un po' strana, che mi trovo a dare conferenze spesso a Torino e ho l'impressione di non essermi mai mosso, perché riconosco facce conosciute. Insomma, è come un discorso che continua, quindi il mio cervello, un po' come quelli server remoti, non so bene dove stia, però quando torno mi sembra di trovarlo qui, e di poter condividere le riflessioni che poi faccio, dovunque io sia, sulla musica. E per questo devo anche ringraziarvi, perché appunto il fatto di poter tornare qui, o all'Unione Musicale, insomma, nella città, e poi mettere a prova queste ipotesi, queste teorie che uno va formulando nel proprio cervello, più o meno in fuga, e questo è il compito, il modo di operare che per esempio molti studiosi di musica hanno, cioè un po' come quello dei ricercatori di fisica o delle scienze esatte, che formulano delle ipotesi e poi vanno a vedere nel laboratorio se queste ipotesi reggono. Io faccio sempre questo, a volte mi succede di fare delle ipotesi e sentire subito dopo il concerto, come quando presenti i concerti di musica alla camera, e questo è molto istruttivo, perché vedo un po' se quello che ho detto è effettivamente vero al 100%, al 50%, al 75%, così. In questo caso nel Falstaff procederò come spesso procedo qui, cioè cercando anche magari di andare un po' più spedito di come sono andato le altre volte, perché poi c'è sempre stato qualche problema di tempo, ma in realtà l'idea sarebbe questa, perché sul Falstaff si può dire tantissimo, è un'opera molto densa di contenuti, di significati, di cose che si incontrano, però questa è una guida all'ascolto, quindi dovrebbe essere un momento in cui si mettono in luce, vengono un po' allo scoperto alcune idee fondamentali, alcuni principi che vi possono aiutare, che possono aiutare tutti noi a approfittare meglio dell'esecuzione in concerto oppure dal vivo. E allora farei una piccola introduzione in cui partirei proprio dai dati di fatto del Falstaff, da che cos'è, perché è un'opera così significativa, e poi alcune riflessioni proprio su questi dati di fatto senza andare troppo a indagare tutti i retroscena, le lettere, tutte queste cose, per identificare alcune caratteristiche molto tipiche di quest'opera, e voi sapete che tutte le opere di Verdi, soprattutto quelle mature, sono un mondo particolare, cioè in Verdi diceva che ogni opera ha la sua tinta, il Falstaff ha la sua tinta, e cercheremo qui di trovare quali sono i colori, appunto questa idea attraverso cui poter vedere il Falstaff meglio, e poi procederei a fare degli esempi. Questi esempi serviranno attraverso alcune accennie al pianoforte, oppure con il CD, a cercare veramente la prova sperimentale di queste suggestioni, di queste idee, di queste ipotesi che farò adesso. Dunque, il Falstaff. Il Falstaff, uno penserebbe, dice, Verdi scrive il Falstaff, vuole scrivere un Falstaff, uno pensa subito all'Enrico IV di Shakespeare, cioè alle due parti di questo bellissimo dramma storico, forse il dramma storico più riuscito di Shakespeare, è uno dei, a detta di chi sa di teatro elisabettiano e di teatro in generale, veramente uno dei monumenti di questo genere di letteratura drammatica. E invece Verdi scrive il Falstaff, come hanno fatto tanti altri compositori, ispirandosi o usando come base per il libretto una commedia di quelle che sono considerate, di quella che è considerata forse la più trasandata, la più sconclusionata commedia shakespeariana, che sono le Allegri e Comari di Winston. E qui, infatti, nasce la prima domanda. Ma perché? Verdi era un genio drammaturgico, un genio del teatro esattamente come Shakespeare. E' impossibile che non l'avesse trovato nella storia dell'Enrico IV, dove Falstaff è un deuteragonista, o un protagonista in seconda, che però assume una preponderanza molto più importante, poi per motivi che vedremo. Allora, facendomi questa domanda, possiamo già capire certe cose dell'atteggiamento di Verdi nel musicare questo tema, questo soggetto. Per chi non fosse familiare con l'Enrico IV, ricordo solo brevemente che nell'Enrico IV, la vera storia, la storia che dà il nome al titolo, cioè che dà il titolo alla tragedia, è quella di un usurpatore, cioè Enrico IV, e di suo figlio, il principe Hull, che è compagno di Bagordi, compagno di Baldoria, di Falstaff. E la storia è una storia veramente politica, in cui ci sono comunque vari livelli, dove tutto quello che il principe Hull combina nelle osterie, o facendo gli stravizi con Falstaff, e la sua banda di personaggi, costituiscono una specie di storia che fa da contrapunto. In questo senso, la presenza di Falstaff è importantissima nel dramma storico, perché serve a controbilanciare quella che sarebbe invece una tipica storia di intrighi, di lotte per il potere. Allora, il tema, diciamo, Falstaff in questo senso, è un personaggio che rappresenta un lato molto cinico della vita, cioè qualunque cosa che Falstaff si trova a maneggiare, cioè in presenza di Falstaff, tutti i momenti importanti della tragedia dell'Enrico IV sembrano ridicoli. Tutti i personaggi che gravitano attorno a lui sembrano degli attori, e lui invece sembra l'unica persona reale, perché vive come una vita senza principi, cioè lui vive come la vita scorre, e questa è la chiave dell'attrazione di questo personaggio, che fu sin dal principio il personaggio più amato dal pubblico di Shakespeare. proprio questo essere un personaggio che fuoriesce dalla tragedia, un po' come Hamleto per altri versi, si dice sempre che Hamleto non è un attore che si trova a fare una parte in una tragedia, ma è una persona che si trova in una tragedia e lui non vuole neanche recitare quella parte, anzi, la parte del figlio che deve vendicare la morte del padre gli fa anche un po' schifo, non vorrebbe. Allora, Falsa e Hamleto rappresentano proprio due personaggi che fuoriescono proprio dalla penna di Shakespeare, non sono neanche proprio personaggi, sono veramente persone a tutto tondo, che appiattiscono all'intorno di sé tutti gli altri attori, tutti gli altri personaggi che restano al rango di comprimari. Allora, già qui si vede che per le convenzioni dell'opera italiana, insomma, in realtà dell'opera dell'Ottocento, un dramma come l'Enrico IV era una cosa veramente quasi impossibile da mettere in scena, perché ci sono tantissimi livelli, c'è il livello, diciamo, del rapporto tra Hal e il suo padre, che è un usurpatore, e lui, diciamo, un po' si vergogna di questa condizione, lui sarà l'erede al trono di qualcuno che ha usurpato il trono, che è salito con l'assassinio al trono d'Inghilterra. Allo stesso tempo abbiamo il rapporto tra Hal e Falstaff, che è un rapporto filiale, Falstaff ama il principe Hal come suo figlio, e poi abbiamo tutta questa potenzialità eversiva di Falstaff che rende ridicolo qualunque conflitto, qualunque sentimento, diciamo, che sia un po' così nobile. E in questo Verdi sicuramente non avrebbe potuto, forse chissà, Mussorgsky, che aveva questa capacità di vedere le opere così in modo corale. Verdi sicuramente aveva provato qualcosa di simile nella Forza del Destino, dove mescolano il registro comico di Framelitone con le storie drammatiche della vicenda, oppure drami dove le questioni personali e le questioni politiche si mescolano sono al centro del Don Carlos. E soprattutto il rapporto tra Falstaff e il principe, cioè questo rapporto paterno ma degenere, cioè un rapporto tutto all'incontrario di come dovrebbe essere il rapporto tra padre e figlio, evidentemente toccava nel serissimo Verdi quando si trattava di problemi dell'amore paterno, cioè non era una cosa che dovesse proprio ispirargli tanta voglia di fare il comico. E quindi, a colpo sicuro, diciamo, quando decide di voler musicare il Falstaff già da subito pensa alle allegre comari di Winsor. C'è questa commediola che Shakespeare scrisse, secondo quanto dice una leggenda abbastanza affidabile, perché è una leggenda molto antica, cioè una tradizione molto antica, risale al 1700, secondo cui il personaggio di Falstaff diventò così famoso ai tempi, era così amato dal pubblico, che la stessa regina Elisabetta disse a Shakespeare di volere una commedia dove Falstaff fosse innamorato, dove si potessero vedere le avventure di Falstaff con le donne. E quindi questa sarebbe l'origine delle allegre comari di Winsor. Dunque, abbiamo detto quindi che di tutte le possibili varianti, i punti drammaturgici che Verdi poteva usare per scrivere il Falstaff, non trascura tutta la ricchezza drammatica che c'è nell'Enrico IV e si concentra insieme a Boito, il suo collaboratore degli ultimi anni, sulle allegre comari di Winsor. Allora, detto questo, incominciamo a capire quali sono state le intenzioni vere di Verdi. Cioè, l'intenzione vera era proprio quella di scrivere un'opera buffa, ma non un'opera buffa sperimentale o anche dove ci fosse una mescolanza di grottesco e di comico come si aveva fatto già in altri casi. Ma veramente un'opera buffa secondo la tradizione. Infatti, la trama dell'allegre comari di Winsor si adatta molto bene a un tipo di libretto da opera buffa. Allora, adesso vediamo com'è il tipico libretto d'opera buffa, per esempio, c'è di solitamente una persona, un vecchio buffo, di solito un basso, che fa la parte del buffo, ed è sempre, diciamo così, gabbato, finisce sempre per tramare qualche intrigo, per sposare magari una ragazzina più giovane, una servetta più sveglia, e alla fine in realtà la coppia di giovani amanti riesce a farla, diciamo, a gabbarlo. e quindi la trama dell'allegre comari di Winsor si adattava abbastanza bene, Falstaff è il vecchio da gabbare, diciamo così, la trama viene molto semplificata nel libretto di Boito e questo, diciamo così, permette un meccanismo comico abbastanza fluido e molto preciso, molto bello. Boito, che sapeva benissimo, e anche Verdi sapevano benissimo quanto era ricco di allusioni il personaggio di Shakespeare, di Falstaff, cosa fanno per renderlo ancora più, diciamo, più importante, prendono soprattutto Boito, ritaglia qua e là dei pezzi, dei famosi monologhi di Falstaff nelle altre, nelle tragedie dell'Enrico IV e li inserisce molto sapientemente nella storia, nella vicenda dell'allegre comari di Winsor. Quindi abbiamo un libretto fatto da Boito, ritagliato, un libretto veramente precisissimo e molto bello nella sua dinamica geometrica di scene in cui confluiscono alcuni passaggi dell'Enrico IV che servono a dare questa immagine di Falstaff come personaggio a tutto tonno, un personaggio che tutti quelli che frequentano il teatro conoscono e quindi possono ritrovare nell'opera. Tanto per farvi capire quanto poco credito l'allegre comari di Winsor aveva ancora diciamo presso gli studiosi di Shakespeare si suole citare una battuta di Oden di Winston Oden che era un grande poeta inglese autore anche di libretti più che una battuta era una sua lezione una sua lezione che nel 46 aveva tenuto lezioni su Shakespeare a New York in un'università e quando è arrivato il momento di affrontare l'allegre comari di Winsor dice l'allegre comari di Winsor è veramente un'opera abbastanza noiosa e dice meno male che è servita come spunto a Verdi per scrivere il Falstaff e quindi adesso noi non parleremo dell'allegre comari di Winsor e sentiremo il Falstaff e quindi questa è stata la sua lezione tra l'altro poi lui queste sono battute che lui faceva abbastanza provocatorie però c'è un fondo di vero e lui sosteneva anche in lettere in conversazioni private con uno studioso di Shakespeare che si chiama Harold Bloom di preferire addirittura il Falstaff di Verdi a quello di Shakespeare adesso noi non arriveremo a tanto ma questo è per dimostrare che questa operazione diciamo un po' chirurgica che Boito e Verdi fanno sul finire dell'Ottocento veramente produce un lavoro quasi autonomo non c'è bisogno di andare a spulciare a ricostruire per dire come magari si deve fare con il Macbeth ogni tanto per dire ricostruire veramente qual era la statura del personaggio originale allora perché a questo punto noi ci dobbiamo chiedere Verdi dopo una carriera dedicata al teatro drammatico a far morire come diceva lui gente ammazzata in scena decide di fare una commedia un'opera buffa proprio e lì ci sono tantissime considerazioni da fare la prima sicuramente lui voleva scrollarsi di dosso questa sorta di etichetta che gli era capitata anche un po' delle osservazioni di Rossini insomma che lui non era in grado di scrivere opere buffe lui era un grande maestro di opere drammatica ma il buffo era meglio che lo lasciasse perdere e questo sicuramente gli rodeva un po' ma poi c'è una questione ancora più simpatica che è quella che alla fine della carriera Verdi aveva ormai scritto una quantità di opere nella maggioranza degli stili in uso nel tempo e aveva finito con l'hotello questo grandissimo dramma in cui veramente il rapporto con Shakespeare è molto stretto e nell'idea di scrivere un'opera buffa sicuramente c'era questa volontà anche un po' confermata e spinta da Boito che sempre cercava di renderlo un po' più al passo con i tempi ma maestro lei può chiudere la sua carriera veramente con un colpo da maestro cioè con la sprezzatura di dire dopo aver fatto tantissime opere drammatica chiudo con un'opera leggera in modo da far capire con ironia che io ormai sono un vecchio maestro tutte queste cose le vedo dall'alto in basso e effettivamente dovete aver giocato molto questa carta su Shakespeare cioè su Verdi e tra l'altro c'è anche la questione che se noi guardiamo veramente a fondo nell'ammirazione di Verdi per Shakespeare vediamo quasi un'identificazione se vogliamo nel punto di vista del lavoro sul teatro perché sono entrambi i compositori cioè un compositore è un drammaturgo entrambi artisti che si sono sempre provati in generi nuovi lo stesso Shakespeare nella produzione di Shakespeare ci sono tantissime tante opere che sono riuscite a metà perché Shakespeare diciamo provava si provava in un genere nuovo e prima di raggiungere la maestria magari faceva opere che non erano proprio perfette per dire l'Enrico IV rappresenta proprio il coronamento delle sue ricerche nel Chronicle Play poi per dire Ré Lier rappresenta il coronamento o il Macbeth delle sue ricerche nella tragedia dell'interiorità del monologo interiore e queste cose qui e Verdi fa un po' lo stesso Verdi raggiunto la massima popolarità il successo con la trilogia popolare inizia a sperimentare a voler far suo anche il mondo del grande opera cioè l'opera francese e poi fa suo il mondo dell'opera esotica con l'Aida o del dramma storico con Don Carlos eccetera eccetera vediamo sempre un tentativo di ampliare la propria paletta espressiva anche a costo di grandi rischi a costo di lavorare moltissimo a delle opere rimaneggiarle rimetterci mano perché chiaramente nessuno nasce maestro in questo senso la conclusione della carriera di Shakespeare e quella di Verdi si possono anche ravvicinare Verdi lo sapeva benissimo Shakespeare finisce la sua carriera di drammaturgo con due con due diciamo soprattutto con due drammi molto quasi magici dove diciamo è un po' enigmatici dove tutto viene stemperato in una luce un po' ironica e magica insomma la tempesta il racconto d'inverno e in questo Falstaff in cui per una parte della musica noi siamo proprio nell'ambiente dell'opera buffa ma alla fine nel terzo atto siamo proprio in una fantasmagoria romantica con spiritelli fantasmi anche se sono mascherati però la musica gli dà proprio tutta l'importanza siamo appunto in un mondo trasfigurato e quindi abbiamo diciamo partendo da questi dati di fatto abbiamo un po' analizzato abbiamo scoperto quali sono state le segrete intenzioni di Verdi nel voler musicare a tutti i costi quest'opera a tutti i costi diciamo che se nell'hotello era stato diciamo un po' spinto da Voito da Ricordi sappiamo che invece il Falstaff era un progetto che lui aveva già dal 1849 dagli anni 50 e quindi è molto credibile che sia stato lui a proporre il soggetto a Voito e non viceversa poi ovviamente Voito è una persona molto colta e anche molto esperto di libretti quindi diciamo le soluzioni vennero poi trovati insieme però dobbiamo proprio credere che a fine dei suoi anni Verdi diciamo dopo il successo di Hotello dopo questo galvanizzante ritorno sulle scene avesse veramente voglia di chiudere con questa leggerezza con questa grazia con questa sprezzatura allora noi abbiamo visto quindi parecchie cose già vediamo un po' ecco sì l'ultimo aspetto che volevo farvi presente a proposito del Falstaff e del rapporto di Verdi con questo soggetto è effettivamente anche la relazione che c'è con il personaggio stesso è indubbio che Verdi si sia a un certo punto identificato anche un poco con il personaggio sapete che è un personaggio che è un vecchiotto diciamo è vecchio però si sente ancora giovane in questo sentirsi giovane ma essere vecchio diciamo c'è anche un po' un'autorionia di Verdi cioè io sono ottantenne ancora sto qui a scrivere scrivere opere quando ci sono ragazzi che stanno facendo la loro carriera e quindi diciamo è una forma anche un po' di guardarsi dal di fuori però più di queste diciamo identificazioni un po' così che si può anche mettere tra parentesi quello che sicuramente interessava a Verdi era di mettere in musica un tipo voi sapete che chi è un bravo teatrante chi è un bravo uomo di teatro è capace di identificare la gente di dire ah questo è il tipo del vedono sempre i tipi sono capaci come abbiamo detto prima gli scienziati di fare delle teorie i grandi drammaturghi sono capaci di creare dei tipi che sembrano universali e il tipo del Falstaff è veramente un tipo una tipologia di briccone immortale cioè il briccone è sempre simpatico il briccone che alla fine ne fa di tutte però riesce a sedurre no? grazie alla sua alla sua alla sua arguzia questa è la è la chiave di tutto il Falstaff perché diciamo che di bricconi che seducono l'opera è piena cioè anche diciamo forse una delle ispirazioni più durature nell'opera proprio quella di dare voce a cose che non si possono fare nella vita per cui la musica diventa questa valvola passionale che viene aperta sul palcoscenico ed è libera di scorrere l'esempio più tipico e anche più diciamo chiaro per capire tutto è il Don Giovanni sapete voi benissimo che il Don Giovanni rappresenta quasi l'anima della musica impersonata in un personaggio cioè la musica come erotismo come capacità di accendere di passione qualunque cosa venga al suo contatto in un certo senso Falstaff è un personaggio di questo tipo perché noi abbiamo detto prima qualunque cosa che lui qualunque scena in cui Falstaff è presente è automaticamente risente della sua presenza magnetica un po' come nel Don Giovanni se avete presente il Don Giovanni di Mozart tutto un meccanismo che è messo in moto alla fine quando Don Giovanni viene non si pente va giù agli inferi l'opera si smolla non c'è più questa spinta erotica questa spinta proprio di vitale che manda avanti l'opera e la stessa musica diventa più convenzionale però il problema è che Falstaff non è Don Giovanni Falstaff non seduce non convince la gente non si fa perdonare per via della sua carica erotica o della sua no lui convince grazie alla sua arguzia cioè quindi è un'arma eminentemente intellettuale se voi andate a leggere il Falstaff dell'Erico IV soprattutto ma anche il Falstaff dell'Allegra e Comari di Windsor Falstaff si esprime in prosa e questo è un segnale che pur essendo un personaggio diciamo un po' nobile di origini è un personaggio intellettuale intellettualistico lui ragiona e la sua arguzia trasforma le cose e a un certo punto uno gli dà ragione alla fine riesce a avere sempre ragione è rivolta sempre alla frittata e quindi questo rappresentava indubbiamente una sfida musicale per Verdi perché la musica diciamo un conte come ha sempre fatto nel romanticismo mettere dare il libero sfogo alla passione alla passionalità che è l'elemento diciamo all'affettività che è diciamo il terreno di elezione della musica ma invece l'arguzia intellettuale già richiede una maestria compositiva che Verdi evidentemente voleva dimostrare di possedere allora qui abbiamo già passiamo già a livello dell'analisi dei segreti che stanno dietro a questa partitura dunque abbiamo detto Falstaff personaggio arguto intellettuale quindi la musica che è chiamata a dargli voce deve corrispondere a questa qualità è veramente così Verdi scrive una partitura che è piena di allusioni piena di quasi quasi intellettualismi si potrebbe dire cioè di arguzie che forse a teatro al primo ascolto non si percepiscono ma andando a vedere lo spartito ascoltando più volte si capiscono sempre di più allora incominciamo a entrare veramente adesso nel carattere particolare di questa partitura di questa opera che va veramente messa insieme all'Otello per altri motivi in un continente a parte del grande mondo verdiano non dobbiamo pensare che ci sono certo degli elementi di continuità però è veramente il Falstaff soprattutto e anche l'Otello rappresentano una sensibilità completamente diversa infatti si ascoltano con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello con cui si va ad ascoltare l'Aida o il ballo in maschera o il Rigoletto non c'è bisogno di avere il musicologo tutti quanti lo sentiamo vediamo un po' se c'è qualcosa che dimentico dunque sì partiamo da questo quindi un'opera che diventa nell'idea del compositore deve essere un'opera comica un'opera arguto un'opera veloce e un'opera che dimostri che sia quasi una sfida da parte del compositore di poter fare tutto ciò vi racconto un aneddoto pochi anni prima Boito che era una persona veramente un intellettuale cioè una persona che viveva nel mondo della cultura in modo un po' diverso da Verdi che era in realtà molto più semplice e convince Verdi a partecipare cioè gli fa vedere una specie di rebus musicale su cui poi lui scriverà la famosa scala enigmatico uno dei pezzi sacri e questo fa capire che in questi anni Verdi stava veramente lavorando la musica con un atteggiamento che non era tanto comune per lui lui aveva sempre scritto musica scritto musica per il teatro per un teatro specifico cioè per una rappresentazione nel tal teatro con tali cantanti per un tale pubblico invece il Falstaff è la prima opera che Verdi scrive semplicemente per se stesso lui scriverà moltissime lettere in questi anni di lavoro nel Falstaff in cui dirà agli amici ma io sto scrivendo ma in realtà lo faccio per me sto scrivendo a quest'opera ma non sto pensando a nessun teatro in particolare non sto pensando a nessun cantante e la cosa ideale sarebbe che quest'opera venisse fatta al teatro di Sant'Agata cioè in casa praticamente non mi ricordo e quindi è una cosa stranissima Verdi che è una fantasia la fantasia creativa di Verdi nasce proprio con la confricazione col pubblico sempre a contatto con le reazioni del pubblico si trova a scrivere un'opera come qualunque compositore veramente già borghese e individualista a tavolino calibrando cercando di sviluppare i temi come si fa con la musica strumentale che a differenza dell'opera è sempre stata nell'ottocento una musica molto più esoterica molto più intima quindi abbiamo questo atteggiamento di Verdi si traduce in un'apertura veramente interessante a un mondo musicale che con l'Italia aveva avuto poco a che fare nell'ottocento cioè il mondo della musica strumentale tedesca e in particolare di Wagner anche per cui noi adesso abbiamo più o meno identificato le ragioni che hanno spinto Verdi a scrivere il Falstaff qual è il carattere di fondo di questa musica che è un fluire mercuriale di arguzie e di intelligenza compositiva ma dobbiamo ancora aggiungere l'ultimo tassello per capire storicamente in che panorama si colloca quest'opera perché è molto importante si dicono tante falsità a proposito soprattutto del Wagnerismo di Verdi se sono dette adesso se ne dicono molto di meno ma era molto comune ancora adesso di sentir dire che Verdi abbia diciamo ceduto alle lusinghe di Wagner abbia iniziato a scrivere Wagneriano allora detto in soldone scrivere Wagneriano vuol dire scrivere senza i numeri chiusi per diciamo la maggioranza delle persone vuol dire scrivere un'opera in cui il teatro le scene diciamo si avvicendano non separate con aria duetto così ma tenute insieme da un fluire continuo dell'orchestra allora in realtà quando si dice Wagneriano bisogna intendersi molto bene perché non basta avere una partitura elaborata nell'orchestra per dire è Wagneriano questo era quello che si usava a dire nell'Italia dell'ottocento quando ancora le opere di Wagner neanche si sentivano però questa roba è Wagneriana come dire è difficile è tutto Wagneriano allora invece in realtà dobbiamo veramente essere precisi su questo punto perché capiremo molto di più del Falstaff perché sì nel Falstaff c'è la presenza di Wagner ma è una presenza parodiata cioè è una presenza ironica come un po' tutto tutti i temi del Falstaff tutte le melodie tutti i sentimenti che vengono messi in campo vengono visti attraverso il filtro dell'ironia dell'autoironia anche a certe volte perché Verdi cita se stesso ma andiamo con calma vediamo qual è il rapporto di Verdi in questo momento con la musica tedesca e diciamo con la musica europea per capire quale fu la modernità di quest'opera e poi vediamo l'ultima idea che voglio darvi è appunto quella dell'ironia della capacità di quest'opera di guardarsi in modo riflesso e non spontaneo allora per capire per capire veramente bene che cosa significa la rivoluzione wagneriana in questi anni bisogna capire qual è la funzione dell'orchestra nell'opera di Wagner che non sarà mai quella nonostante qui sia molto più raffinata nel Falstaff e nell'hotello non sarà mai quella di Verdi la funzione dell'orchestra di Wagner è strettamente legata alle sue idee filosofiche e soprattutto alla tradizione diciamo metafisica e trascendentale della musica tedesca che non aveva mai non si era formata nel teatro musicale come in Italia attorno a personaggi ben definiti ma si era sviluppata nella sua essenza più naturale attorno alla musica strumentale cioè una musica che tende a dare un'immagine appunto universale dell'io del soggetto pensiamo a Beethoven vediamo l'uomo in quanto tale vediamo i personaggi di Rossini vediamo Rosina Don Bartolo quindi un atteggiamento molto diverso ma nel caso di Wagner tutto questo viene come sempre esasperato e l'orchestra di Wagner che cosa rappresenta? rappresenta delle forze cosmiche addirittura cioè le emozioni del cuore umano secondo diciamo la sua infatuazione per la filosofia di Schopenhauer sono veramente un fiume in cui il soggetto la persona non è neanche più responsabile gli attori wagneriani i cantanti sono sommersi e sono sommersi in un modo molto pessimistico da questo fluire della volontà delle passioni che non sono diciamo li trascendono voi avete visto il Tristanisotta ed è chiarissimo le esclamazioni del canto nel Tristanisotta sono più interiezioni quasi di gente che sta per affogare in un magma di passione e l'orchestra rappresenta questo in verdi no mai nemmeno nell'hotello se vogliamo in verdi i personaggi rimangono in modo molto latino sempre responsabili delle proprie azioni quindi l'orchestra rimane sempre diciamo in un ruolo subalterno c'è sempre quella che si dice in termine tecnico la prevalenza del canto del cantante non è mai sommerso in un tessuto sinfonico il cantante italiano neanche in Puccini allora adesso dobbiamo capire come queste novità orchestrali questa novità diciamo di scrittura strumentale che la Germania produce arrivano in Italia e non si capisce se non si passa attraverso la Francia perché in realtà l'influsso che Wagner ha sui compositori italiani non solo su Verdi ma anche su Catalani su Puccini soprattutto e che sono più giovani di Verdi ovviamente arriva attraverso l'esperienza francese e qui l'ultima cosa storica che dico ma è di grandissima importanza bisogna ricordarvi che nel 1870 con la guerra franco-prussiana la Germania effettivamente si presenta agli occhi dell'Europa come una grandissima potenza più della Francia che come dire ammazza una potenza che è ancora tutta da fare perché non esiste neanche lo Stato tedesco e diciamo e lì iniziano anche poi sul modo di costruire il nazionalismo tedesco poi scopriremo delle belle cose si scopriranno poi delle belle cose negli anni successivi ma nel momento diciamo ancora negli anni 70 c'è grande ammirazione per tutto quello che è tedesco tutto quello che è tedesco dalla filosofia alla musica e quindi c'è veramente anche da parte dei francesi che furono i grandi sconfitti una sorta di interesse e non è un caso che nel 1870 inizia quello che si suole chiamare il rinascimento musicale francese il rinnovamento della musica francese grazie all'adozione delle forme strumentali tedesche cosa succede nel campo dell'opera francese che questa diciamo capacità di comporre musica strumentale e sinfonica dei tedeschi viene diciamo a parte alcuni casi di epigonismo wagneriano viene adottata dai compositori francesi nell'opera in una chiave molto più compatibile con il gusto italiano e cioè la trama orchestrale che in wagner è una specie di metafora dei sentimenti cosmici in realtà nella musica francese diventa una specie di paesaggio di milieu il termine milieu francese vuol dire molte cose ma diciamo rappresenta una cosa molto tipica del gusto francese cioè la sensibilità verso tutto ciò che è quasi pittorico ed esterno e quindi diciamo nelle opere francesi di fine ottocento c'è una grandissima attenzione a tutto quello che è diciamo musica di paesaggio quasi anche con un atteggiamento che si può dire veristico veristico nel senso di imitazione della realtà così come si svolge e questo l'anello di congiunzione verso diciamo la nuova scuola italiana che il Falstaff diciamo in un certo senso inaugura in modo veramente esemplare voi sapete che tutti i compositori della giovine scuola Puccini e altri ma soprattutto Puccini impareranno molto poco dal Verdi pre-Otello impareranno tantissimo dal Falstaff e che cose impareranno a far andare avanti l'opera non per grandi arie che rappresentano appunto un affetto alla volta ma per questo modo di ambientare l'opera in una sorta di paesaggio dove i personaggi arrivano cantano e poi diciamo spariscono ma al ritmo non delle loro emozioni interiori come nel ritmo dell'opera tradizionale romantica dove il cuore che è detta la scansione dei tempi ma in un modo veristico cioè come succedono le cose nella vita reale e questa è una grandissima novità una grandissima novità della musica e diciamo che quello che noi chiamiamo verismo e che è una specie di derivazione del positivismo filosofico cioè di un atteggiamento in cui gli artisti filosofi gli intellettuali si presentano di fronte alla realtà senza imporre una metafisica senza imporre diciamo uno schema intellettuale o emotivo accettando in modo passivo diciamo quello che succede e questa è veramente la grande chiave per capire tutto il secondo ottocento perché anche l'impressionismo in realtà sarà poi un'evoluzione di questo atteggiamento la trasformazione della sinfonia a poema sinfonico è esattamente questo la trasformazione dell'opera numeri chiusi verso un'opera corale dove i fatti avvengono secondo il tempo esteriore della realtà non secondo il tempo interiore diciamo del sentimento è una dimostrazione di quanto tutti questi fenomeni si collegano quindi diciamo l'esempio wagneriano viene solo filtrato attraverso l'insegnamento della musica francese che verdi conosceva benissimo e che rappresenta diciamo il gusto nuovo la novità la novità artistica della fine ottocento dunque vedremo poi meglio come la musica strumentale tedesca Tolto Wagner ingombrantissimo che qui è parodiato entri invece in modo molto profondo nel Falstaff attraverso il modello diciamo quello stile musicale inventato e diffuso da Mendelssohn e da Schumann voi sapete che Gounod Bizet i fondatori diciamo dell'opera francese del secondo ottocento saranno molto ispirati dalla musica romantica tedesca ma non dalla musica romantica di Liszt e di Wagner ma soprattutto dalla musica di Mendelssohn e Schumann cioè una musica molto più intimistica adesso con tutti questi ingredienti queste idee questo kaleidoscopio di spunti perché purtroppo il Falstaff è questo fosse Lernani sarebbe un po' più semplice ma il Falstaff è veramente un'opera che conclude una carriera di un grande compositore conclude diciamo anche una traiettoria durata 300 anni dell'opera in musica e poi c'è Shakespeare di mezzo insomma tante cose possiamo finalmente mettere alla prova e vedere nel corpo vivo della musica degli esempi scelti in modo tale da rendere chiare queste idee perché dette così sembrano tutte vere e belle ma in realtà vediamo un po' poi le mettiamo alla prova e vediamo poi anche quando andremo a sentire l'opera in concerto cioè in teatro se tutto questo può corrispondere a una verità allora faccio prima di andare agli esempi brevissimamente riassumo queste idee in modo molto schematico in modo che non ci perdiamo e non andiamo più andiamo più veloce allora abbiamo detto che prima una questione importante è la volontà comica di Verdi quando scrive il Falstaff una volontà precisa che abbiamo cercato di spiegare e vedremo che la comicità di Verdi è completamente diversa da quella di Rossini in questo caso Verdi per la sua comicità usa abbiamo detto l'autorionia cioè si cita se stesso o fa parodie di altri soprattutto di Wagner per esempio oppure usa citazioni in modo così intellettualistico e poi questo carattere intellettualistico cioè questo carattere un po' cerebrale di questa partitura questo carattere un po' strano per Verdi diventa veramente parte della poetica di quest'opera perché abbiamo detto Falstaff è una persona arguta che seduce con l'arguzia e non con l'erotismo o la sensualità in cui anche il libretto è molto ricercato Boit era un intellettuale triso di culture e di citazioni in cui ci sono tante forme musicali nascoste nel tessuto cioè nella scena sono cose che si vedono nella partitura in realtà l'ascolto a parte la fuga finale sono un po' non si vedono tanto bene e e poi abbiamo detto ci sono delle ambizioni veristiche delle ambizioni veristiche già nell'otello ci sono ambizioni veristiche e io vorrei solo spendere un minuto per definire questo termine che si usa anche a sproposito molto spesso si dice tante volte il realismo musicale cioè il verismo inizia con la traviata perché erano in costume non sono è un'opera ambientata nel medioevo ma ambientata pochi anni prima di quando fu scritta falsissimo perché è la musica quello che dà l'atteggiamento veristico o realistico non è la vicenda la traviata è trattata esattamente come qualunque opera dell'ottocento romantico dove ci sono le aree che iniziano espandono e conchiudono un sentimento alla volta cioè un sentimento che abbraccia tutto quello che avviene in scena nell'opera veristica è la scena che domina i sentimenti appaiono esattamente come nella musica impressionistica appaiono le melodie ma il tempo musicale è quello è quello della scena cioè un tempo molto più oggettivo ed esterno un'altra questione è quella del canto si dice sempre il canto veristico il canto veristico è appunto quel canto che cerca non di raggiungere una bellezza ideale come nel bel canto come nella tradizione di Rossini Bellini Donizetti e anche in Verdi diciamo se vogliamo ma che punta a rompere la linea di canto per far emergere le passioni come si manifesterebbero nella realtà un bel cazzotto faccio un acuto che si spezza come l'urlo dei 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 tenori veristici e questo dove inizia dove inizia questo è difficile trovare inizio si dice solitamente con la Carmen anche qui bisogna fare attenzione la Carmen quest'opera del 75 fondamentale non è realistica veristica perché ci sono i gitani o i soldati è veristica perché alla fine di questo grande marchingenio di questo grande scherzo appare la tragedia quando appare la tragedia si abbandonano tutte le convenzioni i cantanti iniziano praticamente a gridare diciamo così al finale della Carmen ci vuole un tenore drammaticissimo anche il soppero anche il contralto quasi gridano alla fine ecco questi sono gli ingredienti del verismo e del realismo musicale non se la storia è in costume del settecento o dell'ottocento e quindi noi abbiamo già che per esempio vediamo nell'hotello questa tendenza di Verdi all'espressionismo a rompere la linea canora a farsi quasi grido e vediamo nel Falstaff di converso la tendenza del linguaggio del tessuto musicale a farsi sinfonico ma nel senso di un sinfonismo francese cioè un sinfonismo d'ambiente dove la musica non dipinge più solo il cuore umano ma dipinge anche l'ambiente sociale gli oggetti quindi la musica si fa atmosferica una cosa molto nuova per l'opera italiana voi sapete che rispetto all'opera romantica tedesca all'opera francese l'opera italiana era negatissima per rappresentare tutto ciò che non era manifestazione degli affetti il colore locale ci sono una quantità di opere di Verdi ambientate in Spagna dove la Spagna praticamente non si sente quasi neanche o per dire il colore locale è una cosa che diciamo non contraddistingue la musica italiana invece già nell'hotello per dire l'inizio con la tempesta c'è una tendenza verso la musica atmosferica e questo lo vedremo benissimo anche in Falsta iniziamo finalmente dopo questo preambolo a sentire degli esempi musicali io solitamente mi metto al pianoforte ma ho fatto questa prova le ultime due volte che tutte le volte che a me vicino lì il tempo musicale va molto a rilento allora adesso magari quando è necessario vado ma vorrei limitare al massimo i miei paccioccamenti sulla tastiera per cercare di farvi sentire il più possibile degli esempi dalla partitura attraverso il cd perché questa partitura si presta molto ho detto che è una partitura mercuriale cioè l'aveva detto Toscanini prima di me quindi lo posso ripetere è una partitura in cui le scene tutti gli avvenimenti tutto quello che succede dura pochissimo tutto è una trasformazione continua vedo qui scritto una cosa che devo dire altrimenti poi torno a casa non dormo bene nel verismo quando parliamo di verismo e di questa fluidificazione della forma musicale è da tenere anche in conto la regolarità dei versi nella musica del secondo ottocento i librettisti sempre ispirandosi alla tradizione francese a una certa prosodia più libera rispetto all'italiano adotteranno versi molto più sciolti molto più liberi primo fu Boito e Verdi fu sempre molto grato a Boito di avere questo stile molto più moderno nel Falstaff c'è addirittura un sonetto intero messo in musica una cosa molto strana gli indecasile e gli sonetti sono molto macchinosi da mettere in musica nell'opera e lo sentiremo e quindi questo è anche un altro fattore di realismo cioè dove la musica non è scandita in modo così regolare ma imita il modo di parlare il modo irregolare in cui avvengono discorsi nella realtà che poi diciamo la realtà ma poi chissà quale è veramente allora adesso esempi esempi che devono dimostrare tutto quello che abbiamo visto intanto con gli esempi ricostruiamo la storia attraverso gli esempi che vanno in ordine cronologico costruiamo la storia la vicenda del Falstaff che è veramente abbastanza semplice e lineare c'è questo ciccione vecchio il Falstaff che ha una vitalità esuberante e ha sempre bisogno di soldi e di bere e quindi tutte le sue diciamo la sua arguzia viene rivolta diciamo a questi piccoli a questi diciamo interessi vili ma però sempre diciamo piacevoli e importanti e quindi la prima scena che si vede diciamo quando si apre il sipario non c'è un overture non c'è un preludio ma c'è un battibecco un litigio tra un tale che si chiama dottor Caius che è stato derubato da Falstaff e dai suoi amici e che viene a chiedere giustizia che viene a chiedere che gli vengano restituiti i soldi e viene mandato via con una pedata a questo punto Falstaff inizia a e nell'osteria inizia a guardare il conto dei suoi consumi all'osteria vede che è a corto di soldi allora questa scena tralasciamo l'introduzione che è interessante anche per motivi ma non possiamo parlarne e sentiamo subito come la presentazione di Falstaff del primo diciamo solo di Falstaff avviene in un modo veramente inusuale per gli ascoltatori dell'opera del tempo siamo nel 1893 perché la forma di questo monologo di questa arria diciamo così di Falstaff è completamente rapsodica cioè si passa veramente in tempi brevissimi di pala in frasca si seguono proprio i pensieri del protagonista possiamo così vi faccio sentire anche come Verdi utilizza la tecnica della parodia abbiamo detto che la comicità del Falstaff non è la tipica comicità dell'opera di Rossini dove si svuotano i personaggi della loro della loro natura poco a poco sentono delle marionette di un meccanismo che li fa agire secondo la tipica tecnica del comico cioè il comico è quando uno non sopporta la realtà e lo svuota e inizia diciamo così a delirare a trasformare la realtà in farsa Verdi non è capace a fare questo cioè non è capace non è proprio nelle sue corde la comicità di Verdi in questa in quest'opera rimane sempre come un vestito di un sarto cioè adattata a ogni personaggio e vedremo poi un caso simile ma qui vediamo come invece lui riesce a creare l'effetto comico attraverso l'utilizzazione di armonie romantiche di una musica come potrebbe essere una musica di un dramma tragico in un contesto ridicolo cioè quando Falstaff si lamenta con Bardolfo perché beve troppo e gli costa troppi soldi allora vediamo un po' come per dire questo esempio ci può servire anche per capire come Verdi costruisce il tessuto dell'opera dove a poco a poco certe idee secondarie diventano tematiche e dove l'orchestra è un brulicare di idee piccole allora sei polli questo è Falstaff legge il conto legge il conto e c'è una musica sospesa un po' come quando uno va al ritorante e gli arriva il conto c'è questo brivido e l'orchestrazione dell'opera rende benissimo questa sensazione di sospensione è un trucco che Stravinsky ha usato nella sua carriera del libertino di cui abbiamo parlato tanti anni fa un'orchestrazione simile Stravinsky aveva la partitura del Falstaff quando ha scritto la sua opera e ci sono tantissimi ripescaggi questo quando sentirete lo troverete sicuramente e a un certo punto Falstaff dice a Bardoff guarda un po' nella mia borsa e un'altra cosa tipica del Falstaff è che la musica imita i gesti questa è una delle strategie comiche di Verdi allora fruga nella borsa inizia a frugare e si sente proprio le mani di uno che va dice e poi fa continua il conto e quando c'è un'acciuga la musica si sospende fa un guizzo come un'acciuga e questa è una cosa strana nell'opera perché in realtà l'opera quando noi siamo a teatro le opere creano uno sfondo un sentimento di fondo e tutti questi piccoli dettagli non sono così importanti questi sono invece dettagli tipici del madrigale questi sono quelli che si chiamano madrigalismi e la partitura del Falstaff è piena di queste piccole sottolineature del testo cose che se uno non ci fa caso a volte neanche se ne accorge però hanno sempre un carattere un po' comico e corrispondono all'atteggiamento di Verdi quando scriveva quest'opera cioè la scrivo per me stesso cioè la scrivo guardando i dettagli e quindi quando uno va a teatro magari tutti questi dettagli gli sfugono allora dopo l'acciuga iniziano Bardolfo continua a cercare e qui Falstaff inizia a arrabbiarsi perché si rende conto che Bardolfo gli sta costando tantissimo e questa trasformazione di questo piccolo frugare nella borsa in qualcosa di emotivo sembra veramente uno sviluppo da Beethoven cosa succede nelle sonate e questo se la mia distruzione spendosi sette giorni dieci chine beone e finisce questo episodio che poteva lievitare finisce subito così e poi e la musica già nell'arco di sette battute ha cambiato tre temi tre temi diversi allora l'ultimo momento che vi voglio far notare è per dire una parodia che sembra veramente una parodia di Wagner in questo caso non è mai molto esplicita a parte in un caso Verdi però si vede che si toglie dei sassolini dalla scarpa e quando Falstaff qui misticciando con Bardolfo gli dice inizia a parlare della sua pancia e dice questa pancia che tengo che ho io deve crescere non si può assottigliare per dire abbiamo un esempio di un'orchestrazione veramente moderna quando Falstaff dice che se Falstaff si assottiglia cioè se dimagrisco troppo non sono più me stesso noi sappiamo che le persone grasse devono avere un po' di ciccia perché se no perdono questa capacità di sorvolare sulla vita in modo ironico arguto e questa orchestrazione che Verdi usa qui è veramente sinistra sembra quasi Shostakovich ma è veramente grottesca perché prende l'ottavino e i violoncelli e fa fare e sembra proprio Shostakovich un tipo un'orchestazione impensabile se non in relazione al testo e questo è un altro esempio di come il testo è molto diciamo dettagliato nella musica allora dopo che si assottiglia dice non mi posso sottigliare e dice in questo addome c'è un migliaio di lingue che annunciano il mio nome questo cita un verso di Shakespeare ma la musica dell'addome è veramente una musica che sembrerebbe viene orchestrata con i tromboni i corni come se fosse quasi la cavalcata delle valchirie no? sentite e poi c'è nel culmine il mio regno eccetera 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 quindi questa scena grandiosa che sembra una musica di Wagner è riferita alla pancia alla pancia di Falsa e l'effetto è comico ma la musica in realtà non è comica quello che è comico è il trasformarsi molto rapido dei momenti e la relazione con il testo allora sentiamo il numero 2 la traccia numero 2 avete visto come bisogna fare molta attenzione ogni 10 secondi cambia l'atmosfera e quindi l'uso parodico è molto evidente in questa conclusione allora cosa succede poi Falstaff cercando uno stratagemma per trovare soldi dice cerca di convincere Bardolfo e Pistola e i suoi due aiutanti di sedurre cioè scrive due lettere per due signore benestanti e lui le vuole sedurre per poi impossessarsi diciamo dei loro soldi questo è un piano un po' sconclusionato e una di queste signore in particolare Alice è sposata è sposata con Ford che è un uomo molto geloso al che Bardolfo e Pistola un po' per paura un po' perché non avevano tanta voglia dicono che loro non ci pensano nemmeno allora Falstaff è costretta a mandare le lettere con dei paggi con un paggio e così si arrabbia con Bardolfo e Pistola li scaccia via e Bardolfo e Pistola vanno a tradire Falstaff vanno da Ford gli dicono guarda che Falstaff cercando di sedurre tua moglie quindi fai attenzione e questo succede nel secondo atto allora adesso noi entriamo nella seconda parte dell'atto primo dove possiamo prendere degli esempi di vedere degli esempi di come la musica di Mendelssohn la musica fatata di Mendelssohn che tanto ha ispirato i compositori francesi e si è diffusa anche in Russia ma soprattutto in Francia e viene adottata da Verdi Verdi conosceva molto bene un compositore che era amicissimo di Mendelssohn per tanti anni che era Ferdinand Hiller che visse anche a Parigi era amico di Rossini e diciamo era molto amico di Verdi e Verdi lo stimava molto e sicuramente in quegli anni diciamo del secondo ottocento in cui Verdi studiò molta musica tedesca conosce conobbe moltissimo sicuramente la musica di Mendelssohn e in questa seconda parte del lato primo dove appaiono le comari di Windsor si vede benissimo la leggerezza mendelssohniana allora sentiamo per esempio come esempio di questo la traccia numero nove che è un momento in cui le le signore Alice e l'altra signora a cui falsa ha mandato la lettera confrontano confrontando le due lettere si rendono conto che ha scritto la stessa lettera tutte e due e allora tramano una vendetta cioè vogliono fargli uno scherzo in modo da ingannarlo allora sono tutte contente allora sentiamo la traccia nove che è un diciamo una specie di momento quasi a cappella dove le voci sono solo sostenute da dei fiati molto leggere questo basta per farvi capire l'idea veramente un'atmosfera mendelssohniana che domina tutta questa seconda parte del primo atto allora io non vi ho detto una cosa un altro tratto caratteristico di quest'opera è che non è solo tutto parodia ma c'è anche un filone che segue ininterrottamente tutta l'opera che è un filone sentimentale una cosa molto strana in Verdi perché in Verdi l'amore è sempre un amore diciamo complicato cioè è sempre un amore voltato alla tragedia ostacolato da cause politiche di gelosie varie invece qui abbiamo per la prima volta a 80 anni Verdi mette in musica due personaggi che sono Fenton e Nannetta sono i due ragazzi Nannetta è la figlia di Alice diciamo qui in Shakespeare è un po' diverso e la figlia di Alice che purtroppo è promessa sposa a il dottor Caius quel personaggio che era entrato in scena all'inizio ma lei ovviamente non è innamorata di Fenton che è un tenore leggero cioè un tenore giovane ma con una voce abbastanza significativa perché deve sovrastare molti cantanti nei spezzi d'insieme e sono i due innamorati che si conoscono e rappresentano come una una vena proprio sentimentale una cosa molto nuova per Verdi ma che corrisponde anche un po' ai tempi in cui l'opera fu scritta voi sapete per esempio che la musica di Puccini canta proprio il sentimento come diciamo un ultimo orizzonte della vita cioè tutti i problemi che possono complicarsi diciamo che possono ampliare la visione diciamo strettamente egoistica del sentimento vengono un po' trascurati e in questi momenti la musica di Verdi sembrerebbe quasi Pucciniana nei duetti tra Fenton e Nanette ci sono dei casi molto simili ma vengono giustamente ridotti alla giusta dimensione non vengono mai portati all'eccesso allora io volevo non c'è tanto tempo di farvi osservare come per esempio in queste scene corali dove ci sono tanti personaggi la tecnica compositiva di Verdi è veramente veristica cosa vuol dire poi vedrete in scena tre gruppi di personaggi nella seconda parte i maschi Ford Bardolfo che vogliono vendicarsi anche loro su Falstaff le donne le greco mari di Windsor e i due innamorati le scene di questa seconda parte si alternano veramente secondo una tecnica del montaggio spezzato è una cosa veramente strana per l'opera abbiamo detto che nell'opera tradizionale un sentimento viene iniziato portato a esposizione e compiuto e poi si passa a un altro sentimento oppure tutti i personaggi partecipano dello stesso sentimento ma non si dà mai il caso di una scena che viene inframmezzata da un episodio e poi riprende e poi viene rinframmezzata dallo stesso episodio e si succede così con tasselli questo seconda parte di questo atto alla fine confluiranno tutti questi tre gruppi nel concertato finale allora prima di arrivare al concertato finale vi faccio brevemente sentire al pianoforte tanto per farvi capire il carattere della musica di Fenton e Nanette cioè il suo carattere sentimentale anche questo deriva dalla musica romantica tedesca dalla musica intima per pianoforte per dei leader di Schumann per dire anche Schubert in alcuni casi ci sono delle armonie molto schubertiane si può quasi suonare senza cantare forse visto come canta è meglio si può suonare perché la scrittura è molto strumentale è una scrittura diciamo proprio strumentale come se fosse veramente quasi un momento musicale di Schubert queste armonie sembrano proprio quelle dei momenti musicali di Schubert sono momenti che interroppono questo fluire continuo dell'azione dell'atto della seconda parte dell'atto io potrei farvi sentire per farvi capire come questo concertato questo concertato finale crea una quasi una sorta di citazione rossiniana e qui diciamo che l'aspirazione di Verdi è quella di creare un effetto quasi di caos alla Rossini ma vediamo che in realtà i tre blocchi non si fondono mai in una cosa metafisica più alta ma rimangono sempre a livello diciamo così reale realistico e questo è reso ancora più evidente dal fatto che la melodia la parte di Fenton cioè del innamorato che osserva questi due gruppi di donne e uomini che stanno tramando contro falsa si stagliano sul contorno sul contorno e quindi diciamo sentirete una voce staccata lo possiamo sentire è il numero 15 del disco 1 avete sentito com'è molto diverso da Rossini e la diversità si sentirà ancora di più nell'atto seguente dove inizia la trama inizia l'inganno a Falstaff abbiamo per esempio il famoso duetto in cui Ford va a chiedere a Falstaff di sedurre la sua stessa moglie spacciandosi per un'altra persona è una tipica situazione rossiniana in cui ci sono due baritoni o due bassi due personaggi buffi che recitano una parte in Rossini questo sarebbe stato l'inizio di un vortice di follia invece in Verdi rimane proprio il senso drammaturgico dei personaggi e qui c'è un momento in cui le citazioni wagneriane diventano molto parodistiche si cita molto l'accordo del Tristano perché cosa succede Ford che è travestito cioè che si spaccia per il signor Fontana dice di essere innamoratissimo di sua moglie che non è sua moglie della signora Alice e chiede a Falstaff di sedurla perché questa signora Alice così non si può proprio conquistare perché così come si dice così pura e casta che non c'è modo di spugnarla ma secondo lui se Falstaff riuscisse siccome un cavaliere bello un vigoroso è bello se riuscisse a sedurla probabilmente si aprirebbe anche a lui questo sarebbe il piano sconclusionato di Ford e in questa situazione così grottesca Verdi riempie questo duetto di citazioni dell'accordo del Tristano sapete l'accordo che rappresenta un sentimento metafisico dell'amore che trascende qualunque confine invece qui siamo in una situazione veramente stracomica in cui uno sta ingannando l'altro ma l'altro sa già che lo sta ingannando c'è una situazione di inganno al quadrato e quindi è uno dei momenti più buffi e non bisogna lasciarsi sfuggire appunto questi accordi che succedono per dire quando Ford dice a Falstaff le scrivo no? le scrivo e l'accordo che c'è sotto è questa cosa qui le scrivo questi accordi wagneriani che vengono riprodotti a distanza ravvicinata quasi come veramente delle beffe e questi sono tipici esempi di parodie però sono parodie abbiamo detto molto sottili molto così intellettuali che è molto da musicologi o da musicisti che vanno a vedere la partitura però quello che è più importante capire è che in questo duetto in questa comicità non si raggiunge mai questo senso di vertigine rossiniana pur nel comico Verdi rimane sempre legato ai personaggi i personaggi rimangono sempre padroni diciamo di se stessi anche nella recitazione nella sconclusionatezza delle situazioni rimangono sempre così allora adesso altro esempio musicale direi di passare al CD2 voglio farvi sentire un esempio molto chiaro di autoparodia che cosa vuol dire? praticamente la prima beffa Falstaff è andata in porto qual è stata la prima beffa? Alice ha mandato una sua amica quickly a dire che il suo marito sarebbe stato fuori di casa dalle 2 alle 3 e quindi avrebbe avuto piacere Alice di vedere Falstaff da sola ovviamente erano tutti d'accordo di far nascondere poi di buttare Falstaff nel cestino della lavanderia e poi buttarlo nel Tamigi cosa succede? che nel frattempo le cose si complicano perché Ford che è andato a lui stesso a cercare di ingannare Falstaff viene a sapere che Falstaff andrà a sedurre Alice sua moglie perché glielo dice Falstaff dice no ma non si preoccupi signor Fontana io già vado dalla signora Alice dalle 2 alle 3 quindi il massimo intreccio che succede appunto nell'atto secondo quando Falstaff viene poi buttato nel Tamigi allora quando Quickley torna dalle comari a raccontare quello che è successo sembra di sentire l'inizio del trovatore quando c'è il racconto leggendario sentite com'è il racconto di Quickley che per semplicemente sta raccontando della burla che ha fatto a Falstaff e questa è la traccia numero 2 la musica è proprio quasi la stessa adesso qui Quickley sta citando delle cose che ha cantato nella parte precedente ma in realtà l'inizio di questo racconto ha proprio il tono leggendario dell'inizio del trovatore quindi questo è un modo di Verdi anche di mettere tra virgolette il suo proprio passato e qui possiamo anche veramente riflettere a questo perché non si dà molte volte il caso di un compositore che a 80 anni ha rappresentato diciamo quasi per se stesso la tradizione operistica o diciamo il filone centrale del proprio paese e a giù del punto si ritrova a guardarsi indietro e a trasformare quasi in burla tutto quello che aveva musicato tutti i temi tutti i sentimenti le passioni romantiche vengono siamo filtrati attraverso l'ironia abbiamo detto che questa è una condizione storica dell'epoca voi sapete che alla fine del novecento tutto quello che potranno fare magari i musicisti nel novecento sarà rivoltare il romanticismo e farlo tra virgolette questa sarà una delle vie che verranno prese dai musicisti e Verdi un po' l'anticipa ma qui c'è una questione anche molto personale ed è quella di una grande quercia come Verdi un vecchio maestro che alla fine della carriera inizia a guardarsi indietro e come ha fatto Shakespeare quando ha scritto La Tempesta dice tutti i fantasmi tutte cose che cosa è rimasto di tutto questo che ho cantato del risorgimento che fine ha fatto per dire un compositore che vive 80 anni che nasce quando ancora Beethoven non aveva scritto neanche La Nona Sinfonia e muore quando Brahms è morto e sepolto ne ha viste tutti i colori e ci sono altri casi simili e vi consiglio per esempio di ascoltarli in altre tradizioni musicali che si possono rifare a questo esempio di un grande compositore che alla fine fa un po' la parodia di se stesso guarda le cose con uno sguardo ironico il primo che mi è venuto in mente non l'ho cercato ma l'anno scorso ho sentito l'ultima opera di Rimsky-Korsakov che è il Gallo d'Oro ed è veramente una situazione molto simile Rimsky-Korsakov è stato il cantore della Russia imperiale dei tanti temi storici delle opere che ha fatto un po' la musica dell'Ottocento e poi l'ultima sua opera rappresenta mette in scena uno zar mezzo rimbicillito dove praticamente fa la parodia della sua musica e un altro esempio potrebbe essere un po' più sfumato è Strauss il capriccio di Strauss l'ultima opera che scrive Richard Strauss anche lì verso gli 80 anni negli anni 40 è veramente un po' una riflessione un po' ironica su tutte le grandi questioni che le sue opere avevano affrontate quindi diciamo questa voglia di autocitarsi è una cosa che è veramente tipica di quest'opera allora io sentirei ancora un esempio di estrema modernità di Verdi ed è questo nel momento in cui finalmente Falstaff arriva e vede Alice inizia a sedurla fa il bello fa il simpaticone e inizia cioè nella scena di seduzione c'è una brevissima aria che forse è l'aria più breve di tutto il repertorio operistico che noi chiamiamo aria ma in realtà abbiamo capito che qui tutti i momenti sono un flusso continuo ed è uno dei momenti che fu bissato alla prima nella scala del 93 nel 1893 che fu bissato perché è veramente un momento nuovissimo non solo nuovissimo si rifà in parte a una celebre pagina del Don Giovanni fincando al vino calda la testa che è un'aria un vortice che dura pochissimo questo dura ancora meno dura diciamo mezzo minuto 40 secondi ed è il momento in cui falsa ricorda di quando era sottile sottile cioè quando era giovane quando era un paggio al servizio del duca di Norfolk e ovviamente l'aria di un paggio sottile sottile non può essere una cosa mastodontica lunga 10 minuti ma è appunto questa specie di anguilla di aria ne sentiamo è il numero 6 la traccia 6 allora adesso andiamo avanti la vicenda abbiamo visto una vicenda comica falsa viene buttato nel Tamigi perché viene scoperto sbeffeggiato da tutti il terzo atto inizia e non si sa investivamente come andare avanti perché l'interesse ormai è ridotto abbiamo già visto rimane in sospeso questa questione dei due amanti che si devono sposare ma che non possono perché il padre Ford non vuole però tutti quanti vogliono ancora dare una lezione di più a Falstaff e lo invitano fanno credere che Alice veramente vuole ancora conoscerlo meglio e lo invitano a passare l'anno ad andare di notte travestito da cacciatori con delle corna di cervo sotto la quercia una quercia maledetta tutta un'invenzione strampalatissima e questa invenzione strampalatissima è veramente un colpo di genio teatrale perché effettivamente la vicenda non ha più molto interesse però viene trasfigurata cioè viene portata su un livello che non è più quello comico abbiamo detto realistico ma è quello della fantasmagoria cioè quello della musica di atmosfera romantica che negli ultimi anni dell'ottocento dalla Germania si era diciamo espansa verso altre nazioni verso la Francia anche verso l'Italia se pensate alle opere di Catalani di Alfredo Catalani alla Lorelay alla Valli ci sono proprio musica diciamo romantica di natura di atmosfera e questa fu anche un'altra grande novità per Verdi che abbiamo detto non era solito secondo la tradizione operistica italiana musicare mettere in musica le atmosfere magiche di spiriti di folletti e in questo caso sono tutti travestiti da fate perché devono tener fede a una maledizione che quando qualcuno vede delle fate apparire sotto questa quercia vorrà dire che era condannato a morte allora queste apparizioni sono in realtà tutti personaggi mascherati però la musica è una musica veramente diciamo magica una musica fatata come appunto si vede si ha modo di apprezzare nel romanticismo tedesco da Weber in avanti allora sentiamo solo l'inizio di questo e poi ancora un ascolto e abbiamo finito e la traccia 23 sentite l'orchestrazione e il carattere fatato delle armonie questi sono dei couplet è una parte in cui Nanette che è travestita da regina delle fate ha un po' una parte protagonista sentite il coro come risponde con delle armonie anche un po' arcaiche a me ricorda moltissimo un pezzo famoso di Forêt il Madrigal un pezzo per coro e abbiamo proprio delle armonie appunto che sono diciamo questo misto di tradizione mendelsoniana romantica tedesca vista attraverso certe raffinatezze francesi allora alla fine dell'opera per dimostrare ancora di più quanto intellettuale sia l'ossatura di questa di quest'opera quanto sia scritta a tavolino non solamente pensando all'effetto scenico l'opera si chiude con una fuga sapete la fuga è un pezzo di musica dotto addirittura accademico alla fine ottocento e cosa significa viene ovviamente adattata alla scena perché Falstaff si rende conto di essere che questi spiriti che vede sono in realtà tutte le persone di Windsor travestite riconosce Bardolfo dal naso prima dice puzzi di acquavite poi dice riconosce il naso perché è talmente ubriaco che brilla sempre lo usava come lanterna di notte diceva questo è il tuo naso allora lo riconosce e poi da lì tutti lo scornificano vedi tu ti credi giovane vuoi sedurre tutte le mogli e finché Ford arriva dice ecco sì chi è il cornuto adesso sei tu e poi però a un certo punto si erano organizzati per celebrare le nozze Ford convinto che Caius e Nanette si stanno sposando perché sono tutti travestiti dichiara di voler sposare questi due però alla fine si tolgono la maschera e invece si rende conto che ha sposato Fenton e Nanette cioè il genero che non voleva mai avere e allora a questo punto falso a chi è il cornuto adesso adesso sei tu che sei fregato perché ti hanno fatto sposare la figlia a chi non voleri allora alla fine c'è una bellissima parte che Verdi voleva risolvere in un modo non sapeva bene come fare con Boito perché questa parte del matrimonio poteva essere un po' afflosciare un po' la tensione e allora la risolve in un modo bellissimo con un minuetto che ricorda sia il minuetto del Don Giovanni del finale del primo atto sia il famoso inizio del Rigoletto dove c'è una danza e tutti stanno dialogando ed è un minuetto alla corte di Mantua vediamo un po' l'ora alle sette bisogna proprio chiudere quindi questo non lo faccio sentire lo potete sentire ah lo sentiamo lo sentiamo lo sentiamo allora un minuto della traccia 28 proprio per sentire questo quasi autocitazione anche se vogliamo la musica sempre che si riferisce a modelli culturali passati sentiamo il 28 possiamo sfumare avete sentito che tipo di musica è veramente una non si può se uno conosce il Rigoletto non si può pensare all'inizio della scena del palazzo del Duca allora alla fine tutti sono fregati gli unici contenti sono Fenton e Nannetta che si possono finalmente sposare e qui abbiamo anche il dubbio cioè in realtà più che il dubbio abbiamo uno sguardo ironico di Verdi perché questo amore di Nannetta e Fenton c'è un bellissimo una bellissima aria di Fenton che hanno fatto sentire quella appunto scritta su un sonetto e viene musicato veramente con un sentimentalismo sconosciuto nella musica di non ha precedenti in Verdi il che ci fa anche un po' sospettare che lui tutti i gabbati ma forse anche gli amanti sono un po' gabbati perché i due ragazzi non sanno che poi che si sono noti sposati inizierà poi tutto quello che succede dopo che col matrimonio e quindi diciamo lo sguardo di Verdi è un po' lo sguardo di un nonno di una persona superiore che vede tutti i suoi personaggi diciamo alle prese con la vita con gli inganni che fa e alla fine quindi la grande conclusione che è una conclusione veramente da maestro in questo si può vedere veramente il consiglio anche di Boito che l'ha spinto a fare quello di chiudere tutta la sua produzione con una burla una burla da un lato perché usa una fuga cioè la composizione più lontana dal mondo dell'opera per chiudere l'opera già Wagner aveva usato una fuga nei maestri cantori che Verdi aveva visto pochi anni prima nell'89 a Milano e che cita in un'altra parte ma non ve lo dico più cosa succede in questa fuga la fuga diciamo ha delle burle accademiche e queste non ve le dico perché sono veramente bisogna sapere come sono fatte le fughe accademiche ma in realtà è tutta una burla il testo perché al fine il testo è molto semplice che corrisponde all'entrata dei soggetti tutto nel mondo è burla tutti gabbati tutti gabbati sembrerebbe una degna conclusione di quest'opera e di tutta una carriera non fosse che alla fine lo zampino di Verdi entra lo stesso cioè non è proprio tutto così semplice c'è una parte centrale della fuga dove veramente si sente il dramma c'è una certa drammaticità quando il testo dice la risata qualcosa fanno tutti ha 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 e oltre a questi ecchi del requiem cioè delle parti più drammatiche del requiem c'è una citazione molto chiara della nona di Beethoven dello scherzo della nona allora sentirete quindi diciamo un po' questa grande questa fuga mezzo comica mezzo diciamo significativa con chiudere quest'opera nel nel modo più arguto abbiamo detto ma anche lo stesso più efficace perché abbiamo tutti i personaggi in scena siamo nel buio di una foresta incantata che poi alla fine si è rivelata essere tutta una mascherata e quindi diciamo è un po' come si si suole finire le opere comiche dove tutti i personaggi vanno escono dalla luce del teatro e si diciamo si scioglie l'inganno del teatro anche il teatro è la vita che per chi è come Verdi o Shakespeare è la stessa cosa allora adesso sentiamo i tre minuti della fuga ce la facciamo prima di mangiare tutto nel mondo è burla sentirete la fuga con tutte le entrate e poi il momento drammatico magari farò una faccia più così così lo riconoscete ma non c'è bisogno e questo era Toscanini tanto per capire era Toscanini e ho scelto anche Toscanini per gli ascolti perché grazie a lui che il Falstaff non grazie a lui lui fu uno dei dei più forti sostenitori di quest'opera voi sapete che quando voi sapete dico sempre voi sapete non lo sapevo neanche io ma in realtà quando Toscanini nel 1921 riapre la scala dopo la guerra a quegli 8-9 anni in cui dirige sto teatro la prima opera che presenta è proprio il Falstaff per dimostrare l'importanza secondo lui di questa opera che considerava veramente un capolavoro avrei anche tante altre cose da dire ma mi hanno detto di finire alle 7 e già sono le 7.10 non so se avete delle domande fatemelo in privato perché forse qui la gente fa andare fra tutti i tecnici vogliono andare grazie